Sì, è una squadra che rifà la B dopo tanti anni, però non ha niente della Serie C. Nel senso che sia il tecnico, che è un allenatore che conosce benissimo la categoria, sia i giocatori che hanno acquistato, sia anche la società stessa, che è una società in ogni caso molto solida, hanno dei valori importanti. Quindi noi dobbiamo stare attenti. I punti parlano chiaro, i punti e le prestazioni. Dobbiamo avere il massimo rispetto del benevento, però anche consapevole le nostre forze. Nel senso che il nostro rispetto deve essere quello che ti fa aumentare la guardia, ma allo stesso tempo, poi dopo sappiamo che anche noi abbiamo le nostre armi. Il nostro percorso è un percorso che ci sta dando certe sicurezze e da là poi dobbiamo fare la partita giusta. Aver fatto punti a Bari, quanta consapevolezza vi ha dato? A Bari il punto è un punto positivo. Per come la vedo io e come credo sia anche giusto per i ragazzi, ti dà anche tantissimi spunti dove lavorare, perché potevamo fare tante cose meglio. Però va bene così, perché a dia di questo c'è stata anche la capacità di soffrire. C'è stato che alla fine, non meritarvi, però hai rischiato anche di vincerla. Quindi l'atteggiamento di chi fino alla fine prova a vincerla è una cosa nostra, che è una cosa bella. Quindi da là va bene, si riparte, però sapendo che il percorso è ancora lungo, e che la strada è una strada di lavoro, lavoro e lavoro e dopo cercando sempre di alzare di più il livello e le prestazioni. So che di formazione non amo a parlare, quanti dubbi ha però alla vigilia di questa partita? Qualcosa c'è sempre, fino al giorno della gara, le riflessioni che uno fa sono sempre continue. Logico che adesso qualche risposta uno l'ha avuta, quindi da tanti punti di vista so anche cosa mi possono dare i ragazzi. Però a dia di questo dobbiamo fare la nostra partita, sapendo che in ogni caso il gruppo è un gruppo sano, che ha sempre risposto bene e anche domenica non solo chi è iniziato, ma anche chi è entrato, ha dato l'accelerata giusta. Grazie a tutti.